E' andata molto bene direi Sì, la conferenza è andata bene Siamo riusciti a dire quello che effettivamente volevamo dire Senza farci prendere dall'emozione Ma oggi dici? Sì Ma io volevo dire un'altra cosa La dico adesso, visto che ne approfitto In generale comunque sta andando molto bene Ne approfitto, la dico Siamo anduti a venire a X-Factor per farci chiamare musicisti Prima ci chiamavano youtuber Esatto, finalmente forse riusciamo a staccare A staccare il nostro target, la targetizzazione che ci fanno Etichetta diciamo Comunque sta andando molto bene Molto stimolante Ci stiamo mettendo in gioco in una maniera diversa Quindi vediamo l'ora di vedere dove ci porterà questo percorso E' pesante perché è pesante Ragazzi, togliendo X-Factor voglio sapere qualcosa sui live Perché insomma vi aspetta anche a voi Insomma non è che c'è solo la televisione in mezzo Soprattutto sulla riedizione dell'album se mi dite qualcosa Ma in questo periodo comunque di impegni fitti Comunque noi stiamo continuando a fare quello che abbiamo sempre fatto Ovvero fare musica e avere uno stretto contatto con le persone che ci seguono Abbiamo deciso di fare questa limited edition di Siamo Solo Noise Perché abbiamo scritto comunque tanti in questo periodo E volevamo dare qualcosa alle persone che ci seguono Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti